Buon pomeriggio a tutte e tutti, grazie per essere qui presenti con noi alla Domus Mazziniana e grazie anche a chi ci segue da remoto sui canali social, YouTube e Facebook della Domus Mazziniana e un grazie, un saluto particolare alle amiche e gli amici di Radio Radicale e a coloro che ascolteranno appunto questo intervento sul sito o sulle frequenze della radio. Vi ringraziamo per essere qui presenti a questo nuovo intervento, a questa nuova puntata per così dire del ciclo di presentazioni che abbiamo intitolato Clioscopio che ha come sottotitolo i problemi del presente lo sguardo della storia perché appunto una delle assi su cui si sviluppa l'attività di ricerca ma anche quella di divulgazione di public history come si dice ora della Domus Mazziniana è sempre stata anche la convinzione che la storia, lo sguardo lungo della storia possa offrire un contributo fondamentale per la comprensione del presente. Per questo siamo particolarmente felici di avere come nostro ospite David Broder che proprio, se mi posso permettere di questo approccio, incarna perfettamente questo approccio David Broder è storico, scrittore, pubblicista, interessato, saggista che si occupa essenzialmente di problemi legati alla contemporaneità. Molti di voi probabilmente lo conoscono perché collabora con l'internazionale, collabora con New Statement ed è membro della redazione per l'Europa della rivista The Jacobin ma Broder porta in questa sua attenzione per il presente appunto uno sguardo storico di lungo periodo, uno sguardo storico che in passato si è concentrato in particolare sulla sinistra comunista nel caso italiano e anche in parte in quello francese che poi ha un po' seguito il vento del tempo già un paio d'anni fa ha avuto anche lui la sua svolta a destra perché appunto questo volume è stato preceduto nel 2020 da The First Took Room dedicato proprio alla destra sovranista e populista che incominciava ad affermarsi in Italia. E questo volume che presentiamo appunto Mussolini's Grand Children, Fascism in Contemporary Italy pubblicato da una casa editrice, se andate sul sito per non avere dubbi ha come sottotitolo appunto Pluto Press Independent Radical Publishing quindi diciamo una scelta di campo piuttosto netta ma che non fa agio invece sulla metodologia storica appunto poi lo diranno i due presentatori, i due discussant, il volume si caratterizza per un'estrema attenzione per la parte documentaria e va a indagare ma poi appunto verrà detto meglio nel corso di questa presentazione le radici di lungo periodo appunto di quella normalizzazione e poi di quel successo di una destra che riesce o che non riesce come abbiamo visto anche dalle polemiche di questi ultimi giorni a fare i conti con il proprio passato e appunto come dice Broder con la parola che inizia per F in quasi appunto la sua impronunciabilità possa esorcizzarne l'effettività ancora l'effettiva presenza nella cultura storica e quindi nella cultura politica ringrazio Ilaria Pavanna della Scuola Normale Superiore e Alessandro Nuvolari della Scuola Superiore Sant'Anna per aver di fatto più che accettato, proposto e organizzato questo incontro quindi direi di non rubarne ulteriore tempo e consentitemi solo appunto di concludere portato i saluti del nostro Presidente, il Professor Paolo Mancarella ed il Presidente nazionale dell'Associazione Mazziniana Italiana Michele Finelli che non ha potuto essere qui presente ma che con noi, con la Domus Mazziniana appunto promuove e organizza numerose iniziative tra cui appunto questo ciclo di incontri quindi grazie ancora a tutti e a tutti e darei, ci siamo organizzati dando la parola innanzitutto a Ilaria Pavanna per presentare anche per chi non ha avuto modo di leggere questo volume che appunto è in inglese ma che a settembre comparirà in traduzione italiana per la casa editrice Ponte Alle Grazie appunto una presentazione del volume e ringrazio David Broder per aver accettato di fare questa presentazione in italiano proprio nello spirito di rendere il più possibile partecipe il pubblico alla discussione Grazie, buonasera, ringrazio moltissimo la Domus e Pietro Finelli per questo invito e grazie naturalmente a David Broder per aver accettato di venire a parlarne e a discutere con noi in questo mio primo breve intervento vorrei appunto a beneficio di chi non ha ancora avuto modo di leggere il libro semplicemente spiegare cosa si trova, cosa troverete dentro il libro e come è organizzato e perché è stato pensato in questo modo sono cinque capitoli densissimi che hanno una sorta di andamento cronologico circolare perché partono dall'analisi del presente e si spostano poi all'indietro per dare appunto quella profondità storica di lungo periodo che il volume ha e ritornano poi sul presente. In particolare il primo capitolo molto interessante, devo dire, forse tra quelli che mi è piaciuto di più, devo dire si occupa di ricostruire come a partire dai primi anni 2000 ma forse anche da qualche anno prima della svolta del secolo quella che allora era alleanza nazionale, diciamo il post MSI promuove a livello mediatico di opinione pubblica, di nuova narrazione appunto a larga diffusione una idea della storia italiana degli ultimi 70 anni, 70-80 anni in cui il nazionalismo è riportato sulla scena e soprattutto è costruito un discorso nazionalista che si basa sulla rivisitazione per non dire reinvenzione dei alcuni punti fondamentali della seconda guerra mondiale e si decide ovviamente di focalizzarsi in questa costruzione in questa sottolineatura del nazionalismo sul confine orientale e quindi il confine orientale, la questione di Trieste e delle foibe diventa il perno e il fulcro attraverso il quale viene riproposto un nuovo discorso nazionalista in cui fondamentalmente ma poi ci torneremo magari nelle domande viene capovolto un discorso fondamentalmente che utilizza un paradigma vittimario per cui gli italiani in quelle aree non sono più stati i perpetratori di crimini ma sono state le vittime di crimini quindi attraverso questa revisione, questa inversione della costruzione narrativa si comincia a diffondere un nuovo modo di leggere la seconda guerra mondiale facendone di quella storia il fulcro attraverso il quale ricostruirla e riscriverla il secondo capitolo invece si occupa di ripercorrere la storia dell'MSI fondamentalmente dal 1946 in avanti quindi dando una notevole profondità storica al profilo e descrivendo molto bene la complessità di quel partito un partito a tutti gli effetti quindi pieno anche di conflitti interni di una dialettica, di una dinamica assolutamente viva tanto che appunto già nei primi anni 50 ci sono forme di scissionismo legati al movimento di gruppo sociale di Ordine Nuovo, di Rauti insomma è una storia complessa e articolata che viene appunto ricostruita nel dettaglio attingendo anche appunto alla storiografia che non è moltissima su questi temi ma appunto facendo ricorso agli strumenti storiografici del mestiere il terzo capitolo invece parla della storia degli anni 90 e della svolta di fiuggi fondamentalmente quindi del tentativo che adesso possiamo definire non del tutto riuscito per usare un eufemismo insomma di trasformare l'MSI in una nuova destra conservatrice europea e quindi c'è il racconto di quel percorso delle sue increspature delle sue contraddizioni delle difficoltà che lo stesso Fini incontra durante quel percorso sino di fatto ad arrivare alla fusione appunto nel 2008 nel Popolo delle Libertà l'esperimento di brevissima durata alla fine in cui appunto c'è questo tentativo di costruire un unico partito di centro-destra il quarto capitolo è veramente inquietante devo dire che ha dei tratti inquietanti nel senso che descrive la porosità come giustamente dice David Broder della destra istituzionale con movimenti di estrema destra extra parlamentare e quindi racconta con dettaglio facendo ricorso a fonti quindi assolutamente documentate e documentabili la vicinanza di spezzoni istituzionali di alleanza nazionale allora con Casa Pound fondamentalmente i tre nuclei che sono esaminati sono Roma quindi Casa Pound Milano con il cuore nero e il gruppo legato appunto all'estrema destra milanese e poi il Veneto Verona e il Veneto e veramente non anticipo nulla leggetelo ha dei tratti estremamente inquietanti questa descrizione che comunque serve ripeto a descrivere la tangenza la porosità appunto di alcuni rapporti tra il mondo extra parlamentare della destra estrema e alcuni esponenti istituzionali invece della destra parlamentare e infine l'ultimo l'ultimo capitolo che è quello con cui si ritorna al presente ed è quello su cui avrei poi altre domande avrò altre domande in cui David Broder si interroga fondamentalmente su che cosa sia oggi Fratelli d'Italia cosa sia oggi la destra italiana incarnata da Fratelli d'Italia ovvero se rispondendo a una domanda che negli ultimi mesi ha molto circolato si tratta di un ritorno dei fascisti al governo quindi di un prevalere di nostalgie di revancismi molto intinti nella cultura nell'ideologia nel linguaggio della destra fascista storica del fascismo storico o se si tratti di qualcosa di diverso e non anticipo la risposta di David su cui torneremo e che forse lascerei direttamente a lui a cui ridò la parola poi torneremo su questi punti più dettagliatamente grazie grazie a Ilaria e grazie a Pietro e Alessandro e a tutti voi per essere venuti è un piacere per me fare questa presentazione tipo questa è la prima presentazione del libro in lingua italiana come ha anticipato Pietro uscirà anche una versione italiana del libro stesso a settembre è vero che questo libro ovviamente l'ho ideato per un pubblico anglofono è anche vero che anche scrivendo delle cose italiane per un pubblico anglofono può avere una certa ricezione anche in Italia anche ad esempio quando ho scritto un articolo per il New York Times l'unio scorso Ignazio la russa ha visto in questo articolo mio un po' il complotto tra il dipartimento di Stato e think tank italiani a parlare dell'Italia nel mondo anglofono e della nuova destra c'è sempre un po' il rischio di presentare un po' un quadro in cui dopo tanti anni e senza tipo dopo tanti anni finalmente il fascismo è tornato come se venisse quasi dal nulla è un po' l'idea del film lui è tornato che Mussolini ritorna dal passato e si trova bene anche nell'Italia contemporanea è anche vero che il titolo del mio libro è non solo il titolo c'è Mussolini ma anche la fiamma ovviamente un po' non evoca solo il logo dell'MSI o di Fratelli d'Italia ma anche c'è un po' la visione di distruzione caos violenza però il titolo del libro non è i cloni di Mussolini o Mussolini è tornato ma i nipoti di Mussolini e si parla di un ricambio generazionale del partito e di questa cultura politica di questa tradizione quindi non ha che fare necessariamente con allarmismo o l'idea del regime che ritorna però questo aspetto genealogico è più o meno al centro del libro o della narrazione che propongo nel libro nella continuità organizzativa e intellettuale quasi ininterrotta delle rete del fascismo storico è una linea di discendenza ciò che Meloni nel suo proprio libro chiama la stirpe di sicura fede incarnata da Ignazio Benito Maria la russa questo linguaggio di filiazione non implica affatto che sia rimasta uguale anzi la tesi del libro è proprio che lo sviluppo intergenerazionale della tradizione neofascista e quindi anche la biografia personale di Giorgio Meloni offrono uno sguardo particolare sui sviluppi più ampi delle forme delle aspettative dell'azione politica contemporanea in un'epoca in cui le forme collettive della politica vengono meno insieme alle loro ambizioni utopistiche organizzazioni di massa mobilitazione violenza e conflitto sociale e persino al tipo di democrazia organizzata e di massa tipica della prima repubblica ovviamente l'esperienza della Meloni non è quella di un ex repubblichino come il suo eroe Giorgio Amirante né di chi è cresciuto politicamente negli anni di piombo come la russa ma piuttosto di una persona che ha preso coscienza politica in un momento in cui l'unione sovietica era colata l'Italia aveva firmato il trattato di Maastricht i partiti della prima repubblica erano in crisi e le grandi narrazioni le utopie stavano scomparendo anche nelle tesi di Fugi del 95 c'è questa idea della fine del secolo dell'ideologia quindi il post fascismo ciò che chiamo il post fascismo del partito fratelli d'Italia non è un ritorno al passato né un superamento della traduzione neofascista ma la fusione della sua storica cultura politica con questo mondo nuovo in cui prevale una desertificazione della vita pubblica e a destra nelle destre internazionali l'ossessione con il venire meno l'estinzione medesima dell'Occidente o in questo caso del popolo italiano il 92 l'anno 92 è ovviamente un punto di osservazione privilegiato sulla storia italiana per ragioni che vanno ben oltre il fatto che in quell'anno Giorgia Meloni si è iscritta all'MSI il 25 aprile del 92 si tenne a Napoli un comizio omissino in cui Ignazio Larussa ha presentato ai camerati il capogruppo alla Camera Franco Sevello secondo Larussa un camerata che aveva sempre martellato la partitocrazia Sevello nel suo intervento riconosceva che la data del 25 aprile era significativa in senso negativo per quanto ci riguarda eppure per la prima volta questo 25 aprile del 92 sarebbe davvero una festa di liberazione una liberazione dalla prima Repubblica dopo tanti anni ha detto ormai tutti danno ragione all'MSI in quella sua antica profezia la fine della prima Repubblica sancirebbe secondo Sevello la vittoria di una ininterrotta lunga battaglia solitaria battaglia che fu condotta con una leadership di alta tensione politica e morale rappresentata da Giorgio Almirante oggi noi chiediamo luogo ad una celebrazione sì ad una celebrazione alla fine della Repubblica nata dalla Resistenza e all'avvento della Nuova Repubblica quella che abbiamo sognato per la quale ci siamo battuti per tanti anni in questo comizio c'erano senz'altro molti richiami al passato Sevello si è indirizzato ai camerati Alessandra Mussolini ha fatto qui uno dei suoi primi interventi come rappresentante dell'MSI eppure nessuno può affermare che Sevello volesse dire che la fine della prima Repubblica significava un ritorno al regime Si trattava piuttosto di una sconfitta dell'Italia antifascista dei partiti della resistenza ciò che Pino Tattarella chiamerebbe l'opportunità di creare un ordine presidenzialista magari guidato da un cossiga non so se la giovane Giorgia Meloni abbia letto del Comizio di Napoli però mi sa che la sua formazione politica riflette fortemente questo momento l'idea della lunga solitaria battaglia di una comunità politica non solo osteggiata ma criminalizzata oppressa chi si sentiva come ha detto la russa filiastro della Repubblica qui parlo di un ricambio generazionale mi sembra chiaro che il neofascismo del dopoguerra soprattutto degli anni di piombo investe l'immaginario della generazione di Meloni molto di più del periodo del regime stesso al congresso di Fiugi come detto il partito ha dichiarato la fine del secolo delle ideologie affermando che anche l'antifascismo fosse stato necessario in un certo momento storico ma che nei decenni del dopoguerra era un'ideologia zombie un prodotto della divisione dell'Europa nella guerra fredda addirittura una sorta di egemonia antifascista in cui la parola antifascista significa comunista e egemonia significa dominio srenato una vittimizzazione di chi non era d'accordo la nascita del nuovo governo ottobre scorso ha visto figure quali Isabella Rauti figlia di Pino ma anche la russa la stessa Meloni che lamentavano come il loro campo politico fosse stato trattato nell'Italia della Prima Repubblica come un partito dei figli di un dio minore indicativa nel discorso di Meloni al momento di chiedere la fiducia della Camera era la sua evocazione dell'esempio del caso di Sergio Ramelli il diciottene picchiato dai militanti di Avanguardia Operaia che muore nell'aprile del 75 che simbolizza incarna l'innocenza di una tribù politica oppressa in quest'ottica l'antifascismo era un'ideologia faziosa che impediva quella che lei Meloni chiama la pacificazione della società italiana ossia la piena accettazione della sua famiglia politica come democratici altrettanto legittimi questa lettura del passato che fa della tradizione missina e neofascista solo vittimi ha molti legami anche con i miti tradizionali dell'MSI anche nei confronti anche per ciò che riguarda la storia della Repubblica di Salò l'idea secondo cui anche durante la guerra l'antifascismo avrebbe espresso una fazione mentre chi difendeva le frontiere della patria avrebbe difeso la nazione quando Meloni parla oggi di una pacificazione della storia o di consegnare il regime alla storia e condanna le leggi razziali propone una definizione anche molto restrittiva di fascismo che non sarebbe stata riconosciuta anche da un suo eroe come Giorgio Almirante restrittivo nel senso che evocando la distra democratica di dopoguerra opera una spartizione netta ma anche falsa tra l'eredità storica l'eredità politica del fascismo regime è quello dell'MSI nato come partito di Reducci di Salò senz'altro il MSI conteneva diverse anime quest'ultimi rispondevano anche alle presunte promesse non realizzate dal fascismo del fascismo storico l'ala nazional conservatrice rappresentata tipo da Augusto Demersanich anche l'anima più sociale antiborghese anche quella quello più di derivazione evoliana spiritualista che trovò il suo massimo esponente in Pino Rauti l'incapacità del partito di raggiungere alte cariche nella prima repubblica anche una storia glorificata nell'idea di esoli in patria o come disse la Meloni nel discorso di fiducia una minoranza criminalizzata ha forse anche aiutato questi correnti a trovare un certo terreno comune una sorta di zoccolo duro definito come sostiene Giuseppe parlato dalla combinazione di un'identità storica essenzialmente radicata nel fascismo e poi di un progetto politico fondato in un modo o nell'altro sull'anticomunismo anticomunismo ma a tenere insieme questi anime c'era anche un'idea articolata in modo più esplicito dallo storico Renzo di Felice che c'era stato un fascismo regime e anche un fascismo movimento che ha saputo anche sopravvivere la sconfitta militare del 45 e questa visione era già inerente allo slogan di Demarsanich di non rinegare e non restaurare se durante il regime tutto il fascismo aveva trovato tra tante contraddizioni il suo punto di unione in Mussolini stesso l'MSI avrebbe dovuto essere qualcosa di più il partito di Almirante e forse soprattutto Almirante stesso era dichiaratamente fascista ma come lui stesso Almirante ha sempre insistito sarebbe disonorare la carica innovatrice del fascismo prendere il regime quale un modello eterno e assoluto anziché cercare di adattare la sua traduzione i suoi valori ai tempi nuovi molto forte in Almirante il fatto di insistere che il fascismo non non si tratti solo del regime del passato della dittatura ma che rimane una cultura politica in evoluzione e c'è sempre l'attenzione all'innovazione al ricambio generazionale questo paradossalmente è ciò che nega Meloni quando limita una discussione un giudizio sul fascismo al periodo del regime stesso nel periodo precedente le elezioni politiche Giorgia Meloni ha insistito sul fatto che tutti i riferimenti al fascismo ai Mussolini al 45 erano solo una distrazione dai veri problemi politici il suo partito avrebbe consegnato il fascismo alla storia condannato le leggi razziali non aveva alcun desiderio di dittatura uno degli aspetti più sconcertanti di questo intervento o anzi della sua discussione mediatica è stato un modo in cui è stato ampiamente presentato come una sorta di regolamento di conti con il passato che Meloni avrebbe finalmente messo a tacere i fantasmi del passato fascista eppure questa consegna alla storia era molto meno determinata ad esaminare criticamente il passato fascista persino dell'esempio precedente di allianza nazionale di Gianfranco Fini negli anni 90 un esempio per tutti nel 2008 Fini è stato contestato ad Atreiu la chermesse dei giovani del partito dopo aver detto che la destra dovrebbe essere in grado di dire che si riconosca in pieno nei valori antifascisti quelli della costituzione se non quelli della sinistra in quel momento lì nel 2008 Meloni ha risposto a Fini con una lettera aperta in cui insisteva sul fatto che era ora che la generazione nata negli anni 70 e 80 la smettesse di parlare di fascismo e antifascismo che dovrebbe arrivare ad una pacificazione della storia proprio superando questo binomio questo conflitto è ovvio che in quanto osservatore straniero che scrive del fascismo come se ne parla nell'Italia contemporanea sono facilmente accusabile di leggere la vita politica italiana attraverso una lente anacronistica si chiede se alla gente comune chiunque essa sia interessano davvero tutte queste cose storiche o di identità però è anche ovvio che non si tratta di una mia invenzione basta pensare che solo qualche giorno fa i titoli dei grandi giornali italiani erano dominati da accuse reciproche di distruzioni della storia delle fosse ariettine e dell'azione di via resella però senz'altro i punti di vista della stampa romana non possono essere presi per emanazioni dirette della volontà popolare e non è detto che gli avversari politici della Meloni riescono a raccogliere gli elettori mobilitandosi su questi temi però allo stesso tempo le sue stesse tattiche comunicative anche quelle di altri esponenti del governo non danno loro non danno alle opposizioni altra scelta che combattere anche su questo terreno nonostante la retorica di lasciare il passato al passato fratelli d'italia e non solo cercano compulsivamente di attirare la discussione politica su questioni di identità nazionale di minaccia alla civiltà europea e più specificamente su una rielaborazione della storia nazionale e nazionalista italiana in modo di cancellare fascismo e antifascismo da qui il suo commento sulle presunte vittime delle forze addettine uccise solo perché italiani questa voglia di cancellare il conflitto di pacificare la memoria storica mettendo tutte le memorie su un piano sullo stesso piano senza giudizio storico senza criteri di distinzione si base non sulla critica del fascismo ma sulla etnicizzazione della storia in questa narrazione battaglie quali Stalingrado e l'Alemen la guerra antipartigiana in Venezia e Giulia diventano accettanti esempi di eroismo nazionale italiano nella difesa dell'italianità nel primo capitolo del libro come ha detto Ilaria cerco di spiegare come questa lettura della storia e soprattutto delle foibe si articola con la difesa dell'italianità oggi per darne un esempio l'intervento di Meloni per celebrare il centenario dell'armistizio del 4 novembre del 1918 affermando che ora come ieri non passerà lo straniero e che il miglior modo di onorare i soldati del 1918 sarebbe difendere la nazione contro i nuovi invasori cioè l'ha detto esplicitamente lo speculatore George Soros ed il suo disegno di sostituzione etnica chiudo dicendo che se ogni riferimento al fascismo può sembrare allarmistico quando quando lo capiamo qual è una cultura politica una tendenza nella storia italiana una tra le tendenze della destra è chiara che può esistere anche in altre forme che può ibridizzarsi con altre culture e elementi politici anche i vari Casa Pound e lealtazione non propongono un ritorno al passato nel caso di Fratelli d'Italia mi sa che ha saputo ha saputo integrare una tradizione più propriamente neofascista una visione vittimaria della seconda guerra mondiale e una concezione etnica della nazione di integrare tutto questo in un più ampio famiglia politica nazional conservatrice a livello internazionale anzi a livello dell'Occidente se pensiamo alla cosiddetta moderazione di Fratelli d'Italia o della sua evoluzione politica c'è anche l'altro elemento cioè il processo di evoluzione delle destre a livello internazionale questa ossessione per il declino del mondo bianco ma anche una coscienza del venire meno degli strumenti della mobilitazione politica e della forza dello Stato Nazione in questo senso il libro non è tipo questo non è il libro che dà del fascista a Giorgia Meloni vuole essere una riflessione sul ricambio generazionale e sull'evoluzione di questa corrente politica e il modo in cui questo processo lo permette anche di trovare nuove alleanze di partecipare ad una una ricomposizione più ampia delle destre a livello internazionale grazie allora io farò qualche commento una prima valutazione del libro poi vediamo un pochino come ci gestiamo l'incontro volevo partire da un'osservazione sullo stile del libro Ilaria ha riassunto in modo preciso puntuale i contenuti lo stile è molto particolare nel senso che praticamente ogni pagina contiene dei passaggi delle citazioni proprio tra virgolette che sono basate su una serie molto eterogenee di fonti possono essere articoli di giornale interviste video di youtube video della rai eccetera sono perché c'è l'idea mi sembra penso che una delle idee poi David lo potrà confermare dell'autore fosse di ridurre la parte di interpretazione al minimo possibile cioè tutte le affermazioni che vengono fatte tutti i giudizi storici che vengono espressi vengono espressi con le precise parole degli esponenti di di Giorgia Meloni e degli esponenti di Fratelli d'Italia per cui qui davvero di ricostruito dall'autore c'è molto molto poco e anche in pratica l'autore David costruisce una narrazione di eventi e noi ascoltiamo cioè l'interpretazione che il lettore si fa deriva proprio da leggere questa serie di interventi queste affermazioni che vengono fatte una dietro l'altra sono affermazioni che sono in questo sono proprio quelle specifiche parole cioè non c'è un lavoro di ricostruzione di costruzione di un significato che è altro è quello è stato detto quello è stato affermato quello e veniamo anche io ho apprezzato molto il primo capitolo che è quello dovuto alla all'idea si chiama le vittime della storia che appunto riguarda il rapporto diretto tra Meloni Fratelli d'Italia e la storia del fascismo e in questo senso anche appunto Giorgia Meloni anche nel video l'ho rivisto stamattina il video nelle tre lingue con cui lei ha cercato di acquisire una credibilità prima delle elezioni ha rivendicato dicendo il mio partito ha consegnato il fascismo alla storia e insomma c'è stata fatta un'elaborazione critica dell'esperienza storica del fascismo e e David cioè vale la pena sottolineare che questa rielaborazione critica si riduce a tre aspetti diciamo si riduce alla condanna di tre aspetti se vogliamo le leggi razziali le entrate in guerra e la dittatura però ci sono delle omissioni significative un'omissione particolarmente significativa è che non viene mai detto nulla sulle azioni del regime in Africa in Libia o in in Etiopia poi ce ne sono altre diciamo per cui diciamo è una è sempre un qualcosa di abbastanza parziale e dall'altra parte nonostante ci sia questa affermazione di aver consegnato il fascismo alla storia c'è adesso David l'ha definito compulsivo ma è vero c'è un tentativo compulsivo di ri-identificare di elaborare tutta una serie di momenti della storia nazionale anche relativi a quel periodo per cui anche in un certo senso è anche paradossale quando Meloni dice mi accusate sempre o mi chiedete sempre del fascismo ma sono sono esponenti del suo partito che in un certo senso si cimentano in questi esercizi di di costruzioni e ricostruzioni di memorie di memorie pubbliche che dovrebbero essere più o meno condivise e in questo senso anche il punto che a me preme credo che sia l'episodio più rivelatore permettetemi di farlo è quello che è stato fatto ad affile nel 2012 dal sindaco di affile in cui sindaco di Fratelli d'Italia il quale è riuscito ad ottenere la costruzione spendendo più di 100.000 euro di un monumento dedicato al mare asciallo Rodolfo Graziani se andate su Wikipedia eccetera lo vedete potete anche ognuno può fare può esprimere un giudizio e c'è questa ricostruzione questo monumento a quello che insomma è un criminale di guerra giudicato e dopo ovviamente c'è una vicenza giudiziaria che è specifica però ovviamente è qualcosa di peculiare e vediamo anche l'esempio appunto la giustificazione non viene rievocato come esponente del regime fascista viene rievocato come concittadino di affile e come soldato adesso per do un consiglio questa è anche cosa per vedere le virtù militari di Graziani io consiglio andate su Wikipedia e leggete cercate operazione compass vedrete appunto questa è l'inizio e quando è l'operazione inglese all'inizio della guerra vedete le forze in campo e vedrete la sconfitta clamorosa dei soldati italiani sotto il comando di Graziani è qualcosa Anthony Eden che era un membro del gabinetto inglese ebbe un'affermazione parafroso Churchill e disse mai nella storia prima d'ora così tanti avevano perso malamente così tanto in termini di territorio di fronte a così pochi capite che l'idea di costruire un monumento per celebrare un soldato che ha questo record personale insomma è un po' diciamo è un po' strana è un po' paradossale quasi grottesca e ce ne sono tanti di episodi di questo tipo anche diciamo anche la ricostruzione e la ricostruzione e il dibattito che abbiamo avuto in questi giorni su Via Rasella guardiamo ok erano erano una banda una banda di quasi pensionati detto il presidente del senato che è questo io mi sono detto ma come gli è venuto in mente e ho cercato le fonti diciamo quale fonte può avere consultato da quale fonte può provenire questo perché c'è una voglia allora di rileggere la storia su quale fonti si sono basate su internet c'è una documentazione abbastanza completa ed esaustiva anche se uno cerca quasi per caso vedo che probabilmente si risale credo è un'ipotesi si risale a una ricostruzione che fu fatta dal giornale di Feltri negli anni 90 in cui fu proposta questa ipotesi per cui credo che quella sia la fonte che sia stata utilizzata dalla russa per fare questa affermazione per cui il risultato non è non sembra nascondere uno uno sforzo genuino di riappropriazione della storia o di ricostruzione storica o di interazione magari con la storia accademica questo propone anche un problema per noi per noi storici accademici questo discorso rivela probabilmente una una voglia di affermare una continuità ideale con una cultura politica con un momento storico preciso e con una cultura politica precisa questo è quello che viene in connessione perché appunto perché uno debba celebrare un militare incapace non si capisce non c'è ragione a meno che non ci sia qualcosa d'altro dietro e questo era il secondo punto sulla parte storica e volevo poi fare la mia ultima osservazione era sul movimento sociale italiano poi lasciamo anche questo questo è la parte che se vogliamo nel il partito di Giorgia Meloni rivendica con maggiore senza ambiguità noi dice noi siamo abbiamo una continuità col movimento sociale di Almirante precisa non abbiamo mentre col fascismo c'è questa prudenza diciamo il fascismo va consegnato alla storia noi siamo parte di questo di questa cultura politica di questa destra nazionale però anche quindi questo nel secondo capitolo del libro e anche adesso dalle citazioni che ha fatto David è chiaro che in pratica cosa è stato la MSI se uno guarda bene è stato davvero un frigorifero che ha mantenuto ha conservato la cultura fascista originale ma è stato all'interno della MSI uno sforzo genuino se vogliamo di rielaborazione storica per cui in un certo senso è come diciamo quei film di fantascienza in cui i personaggi si addormentano si devono addormentare per un lungo viaggio e poi si risvegliano ha avuto questa funzione dal punto di vista della cultura politica ma non c'è stato uno sforzo di elaborazione particolarmente originale di un programma di destra conservatrice diverso se vogliamo al di là di affermazioni appunto quando è caduta la prima repubblica noi siamo il partito della legge dell'ordine dell'onestà eccetera però tutta la cultura retrostante faceva riferimento chiaramente al fascismo e tra l'altro ecco l'altro aspetto che volevo segnalare nel libro che come il percorso come fini risulti davvero un marziano sembra un uomo solo che è davvero e nelle affermazioni si vede che lui come un tentativo quello abbastanza probabilmente genuino col senno di poi con oppure con gli occhi successivi di cercare di trovare nuove posizioni che possano essere sempre conservatrici ma in un certo senso avere degli sviluppi e delle degli sviluppi diciamo di non essere così ancorati magari a questi elementi della cultura politica fascista questi sono i punti che volevo segnalare per cui il libro è molto interessante e ripeto l'aspetto forse più interessante oltre al contenuto è questo aspetto metodologico quando uno legge il libro le opinioni di David sono davvero limitate magari alla fine dei capitoli eccetera o a parti minori per cui uno può leggere il libro e magari non essere d'accordo sull'interpretazione di un singolo fatto di una singola intervista di un singolo episodio però diciamo è interessante avere questo quadro molto completo e molto comprensivo per cui credo che questo sia un contributo importante grazie grazie Alessandro Nubolari per questo suo ulteriore contributo con cui direi che possiamo appunto fare passaggio successivo come eravamo rimasti d'accordo ho chiedito di nuovo a Ilaria di fare da rompigliaccio dopo l'introduzione ai temi di libro anche alla discussione quindi darei prima la parola a lei e poi a chi vuole intervenire dal pubblico e poi chiederei a David Broder appunto di concludere il nostro incontro grazie allora io farò qualche osservazione e poi qualche domanda anche a David prima di cedere anche alle domande del pubblico e alla fine sì credo che le mie osservazioni riguardino soprattutto i primi due capitoli perché in qualche modo sono anche quelli più storici e storicizzabili anche in cui David utilizza non solo il metodo storico ma anche una storiografia consolidata e volevo tornare sul discorso appunto di questo paradigma vittimario che è emerso già sia nell'intervento di David che di Alessandro attraverso il quale appunto è stato ricostruito si tenta o si continua a ricostruire appunto una diversa storia italiana d'Italia dal 1945 ad oggi in cui appunto prima l'MSI ma poi adesso l'Aleanza Nazionale adesso e poi Fratelli d'Italia negli ultimi anni insistono moltissimo sul discorso che appunto sono stati criminalizzati in patria sono stati degli esiliati in patria per un lungo periodo corrispondente a quasi 70 anni insomma ignorando completamente la realtà storica e alcuni fatti storici che si riferiscono al modo in cui l'MSI si è concretamente rapportato alla storia repubblicana e quelli che sono stati i modi in cui l'MSI è stato anche diciamo così tra virgolette trattato già dai primissimi anni della Repubblica tanto va sottolineato che cosa praticamente unica in tutta l'Europa occidentale post 45 l'MSI costituì il primo più precoce esempio di ricostituzione di un partito fascista era il dicembre del 46 quindi era passato poco più di un anno dalla fine della guerra e questa sua presenza di questa sua ricostituzione istituzionale poi corrisponde alla presenza in Parlamento a partire dalle prime elezioni del 48 dell'MSI come forza rappresentativa come quindi partito politico a tutti gli effetti e questa è una cosa che non viene mai sottolineata cioè l'assoluta possibilità di partecipare da parte dell'MSI al gioco politico parlamentare di una Repubblica istituzionale cosa che sembra appunto quasi non essere successa mentre nessuno ha negato ai deputati e ai senatori dell'MSI di essere eletti di fare campagna elettorale di portare insomma la loro voce loro ideologia dentro le aule parlamentari e dentro le istituzioni parlamentari e poi dimentica anche una serie di atti compiuti dalla Giovane Repubblica tutti in chiave di pacificazione nazionale perché questo termine della pacificazione nazionale che è tornato in voga già dagli anni 90 per portare a queste cosiddette memorie condivise che sono ovviamente uno simoro però è un discorso di lunghissimo periodo che nasce nell'immediato dopo guerra da subito l'amnistia cosiddetta Togliatti del 46 47 è un evidente tentativo poi anche riuscito politico di pacificazione nazionale nel senso di realismo politico togliattiano possiamo chiamarlo in tanti modi è stato anche molto criticato dagli storici l'amnistia Togliatti è stata oggetta di numerosi studi però quello che sostanzialmente ha fatto è appunto garantire una larga amnistia a moltissimi ex fascisti il Graziani che è stato citato poco fa da Alessandro Nuvolari è stato fondamentalmente amnistiato quindi non ha scontato non ha scontato pochi mesi credo alla fine riuscì a insomma tra un processo e l'altro ma di fatto lui come tanti altri gerarchi hanno sono stati traghettati dentro la storia repubblicana senza nessuna criminalizzazione almeno a livello penale ecco lo stesso questo continuare a sottolineare i soldati di Salò come emarginati e come criminalizzati nel 1953 ancora prima che il Parlamento italiano votasse una legge a favore degli ex perseguitati politici e razziali per concedere loro una forma di sussidio la legge passò soltanto perché qualche mese prima era passata la legge che concedeva un analogo sussidio una pensione di invalidità e vecchiaia ai mutilati e reduci dell'esercito di Salò e questo fu un atto voluto dalla democrazia cristiana sempre per favorire la famigerata pacificazione nazionale di una giovane repubblica quindi in realtà di episodi di criminalizzazione effettiva nel concreto ce ne sono ben pochi poi certamente c'è stato gli anni di piombo ma quello è un altro discorso e riguarda le questioni extraparlamentari sia di destra e di sinistra ma se si va a guardare proprio il comportamento delle istituzioni appunto l'MSI ha potuto essere un partito dell'arco parlamentare per tutti i 70 anni e appunto è anche giovato prima di altri soggetti di una serie di benefici di tipo previdenziale in questo caso ma che avevano un chiaro contributo insomma un chiaro elemento simbolico e questa storia poi cambia nel 92 già quindi questo ricorso ossessivo al paradigma vittimario nel momento in cui l'MSI e poi alleanza nazionale diventano da forza antisistema che era un po' la retorica di Almirante forza di assoluto sistema in quanto entrano nei governi del paese e quindi questo non succede da poco succede a partire da metà degli anni 90 quindi ha dietro alle spalle appunto un'esperienza che ormai si avvia più che trentennale quindi la pretestuosità insomma di questa retorica vittimaria se poi si scrosta appunto un pochino e si fa un fact checking un minimo oggettivo insomma non è neanche così difficile insomma smascherarla diciamo così e poi c'è un altro capitolo sempre in questo discorso sulla retorica vittimaria che dagli anni fine anni 90 insomma vede la nuova destra insomma molto molto presente insomma diciamo anche ad avere un certo successo in termini mediatici di proposizione di questa narrativa e qui introduco un elemento così di domanda non solo per David ma anche per gli altri di Scassan del tavolo quanto questo sia in realtà stato non dico favorito ma diciamo non frenato da una resistenza della controparte mettiamola così nel senso quanto in realtà a questa nuova narrativa abbiano contribuito anche forze che non appartenevano al campo politico e culturale della destra della nuova destra e questo me lo domando nel momento in cui negli anni 2000 soprattutto con queste due celebrazioni che sono diventate un po' il perno celebrativo dell'anno civile cioè il giorno della memoria istituito da Ciampi nel 2000 e il giorno del ricordo istituito invece nel 2004 che come sapete si svolga una brevissima distanza di pochi giorni l'uno dall'altro 27 gennaio 10 febbraio si sia costruita appunto una narrazione anche da parte delle istituzioni dello Stato a livello centrale e a livello locale che ha favorito insomma questa confusione e qui vengo un po' nel mio campo in cui sono un pochino più ferrata e allora porto se posso un piccolo contributo ovvero ho analizzato i discorsi del Presidente della Repubblica nell'occasione dei giorni della memoria come sapete sono uno dei momenti fondanti di quell'appuntamento cioè il Presidente della Repubblica tutti gli anni fa un discorso che viene anche riportato attraverso i media sarebbe molto carino non so se l'hanno fatto carino scusatemi utile probabilmente non so se è stato fatto forse sì e quindi mi scuso mettere in paralleli i discorsi dei Presidenti della Repubblica per il 27 gennaio e per il 10 febbraio e vedere che cosa dicono come lo dicono in quali occasioni il linguaggio utilizzato le figure retoriche io conosco meglio quelli per il giorno della memoria e quindi un attimo su questo mi soffermo facendo notare che in pratica fino a Mattarella fino al 2017 quindi sono accorsi 17 anni di discorsi dei Presidenti della Repubblica per il giorno della memoria non ci sono mai state delle denunce esplicite e ferme sulla partecipazione italiana al razzismo fascista e alla persecuzione antisemita molto spesso analizzando questi discorsi anche la parola fascismo appunto la famosa parola con la F non viene neanche pronunciata men che meno Repubblica Sociale Italiana e dunque insomma bisogna chiedersi o comunque vale la pena di chiedersi se in qualche modo quindi questa questa da parte diciamo quello che emerge nei discorsi presidenziali soprattutto è l'esaltazione degli italiani come giusti tra le nazioni e come salvatori di ebrei questo è fondamentalmente la linea rossa che c'è in tutti i discorsi presidenziali che però appunto fa un po' da controcanto e fa da complemento alla linea invece interpretativa di Alleanza Nazionale e Italia degli italiani come vittime quindi o vittime o salvatori ma non c'è mai nel mezzo un altro ruolo evidentemente che possa essere adatto a spiegare il comportamento insomma degli italiani in una certa fase storica e quindi mi chiedo se in questa proliferazione di questa rilettura appunto vittimaria che Alleanza Nazionale prima e Fratelli d'Italia poi ha portato avanti non ci sia anche diciamo una collaborazione inconscia mettiamo così o non del tutto consapevole da parte di un altro pezzo insomma della cultura politica italiana nel insomma non dico nel frenare ma nel insomma dire le cose con una certa consapevolezza storica più ampia e poi volevo dire se posso ancora un'altra cosa e lascio poi la parola di nuovo a David e mi trovo molto in quello che lui dice sul fatto che siamo di fronte chiaramente a qualcosa di nuovo col partito di Giorgia Meloni che ha però forti legami con qualcosa di vecchio mettiamola così insomma continuità e discontinuità si amalgamano e convivono come è naturale che sia chiaramente in qualsiasi forza politica che interpreta e vive il suo tempo credo però che ci sia un elemento di continuità tra non solo il vecchio MSI ma anche l'esperienza di Alleanza Nazionale e quella di Fratelli d'Italia e mi sono quindi andata a rileggere per cercare di capire l'evoluzione di questo partito quelli che sono credo due momenti fondanti cioè le tesi di Fiuggi le tesi politiche di Fiuggi del gennaio 1995 quando c'è appunto il passaggio MSI Alleanza Nazionale e quelle che credo che siano ma correggetemi se sbaglio un po' le tesi di Trieste pronunciate durante il secondo congresso di Fratelli d'Italia nel dicembre del 2017 a Trieste che ancora oggi potete leggere sul sito ufficiale di Giorgia Melloni e quindi immagino siano ancora un riferimento valoriale ideale politico insomma cui il partito si rifà sono testi completamente diversi ci sono grandissime differenze tra questi due testi enormi assolutamente poi se volete possiamo scendere nei dettagli anche in termini di riferimenti culturali di come sono fatti di chi sono i riferimenti culturali che vengono espressamente citati in questi testi però forse un elemento di continuità c'è ed è la concezione della nazione che questi testi portano avanti cioè comunque sia una definizione esclusiva della nazione prevale sempre e il riferimento di Fiuggi quindi del testo di Fini era allora addirittura detto giustamente Alfredo Rocco che chi conosce un po' i testi del Fedor Rocco sa praticamente una definizione organicistica di nazione ecco e il riferimento di Meloni è Giovanni Gentile è una citazione che non sono riuscita a trovare da quale fonte di Giovanni Gentile è tratta ma che ha delle esonanze assolutamente evidenti con la famosa voce dottrina del fascismo scritta da Gentile sebbene firmata da Mussolini nell'Enciclopedia del 32 quindi la stessa definizione quindi diciamo che è una definizione appunto esclusiva della nazione basata su vincoli culturali linguistici di territorio di lingua Rocco ci metteva anche la religione ma questo infatti continua a esserci anche nelle successive definizioni ci metteva anche l'etnia ecco direi che forse se si può trovare un elemento di lunga continuità e che spiega ancora molta della postura di Fratelli d'Italia rispetto all'MSI e rispetto anche alleanza nazionale e in questa definizione esclusiva della nazione che poi trova ovviamente una traduzione in programmi politici che sappiamo relativi all'immigrazione e così via poi però ripeto i testi sono anche molto diversi e quindi denotano due momenti totalmente diversi della vita di quella destra avrei una domanda se posso prima di lasciarti che ha più a che fare con una cosa che in realtà nel libro fa da sottofondo che però ci interroga anche su quello che sta succedendo cioè il grande successo il successo elettorale di Fratelli d'Italia infatti utilmente poi alla fine del libro trovate tutta la serie storica delle elezioni politiche dall'MSI alleanza nazionale che è molto molto utile ed è abbastanza interessante cioè molto interessante e quindi mi chiedo e ti chiedo in questo nuovo in questo successo che negli ultimi tre anni ha riso a Fratelli d'Italia che ruolo secondo te ha avuto una cosa che secondo me ho trovato poco e quindi mi chiedo se è stata una scelta la crisi del 2008 2011 insomma gli equilibri complessivi italiani ma non solo internazionali economici che sono cambiati cioè quanto il partito di Giordano Meloni ha saputo interpretare le esigenze nuove nate insomma da quella crisi ecco quindi tanto per cominciare questa domanda quindi grazie delle osservazioni e delle domande puntuali questo ok la prima più o meno sulla responsabilità dell'altro campo politico e soprattutto tipo se penso al primo capitolo del libro su questa storia come hai menzionato questi interventi anche dai presidenti della repubblica sul giorno del ricordo e ovviamente quello più non ovviamente però secondo me quello più indicativo che può gettare le basi di una risposta alla tua domanda è quello di Giorgio Napolitano del 2007 in cui parla di una pulizia etnica ispirata ad una furia annessionistica slava quindi utilizzando un linguaggio ovviamente molto tipo sì tipo sì nel senso che esprime una condanna forte dei partigiani titini però ha molto poco a che fare con le realtà storiche e i fatti accertati e non solo pensando ai storici di sinistra però sì questa visione è molto vicina a quella della destra e c'è una discussione storiografica sui motivi per una tale scelta ovviamente si può anche dubitare del fatto che Giorgio Napolitano scriva i suoi propri interventi però comunque non è un caso isolato fa parte di un modo di parlare di queste cose e c'è ovviamente c'è nel libro curato da Josep Pirjevic c'è il capitolo di Guido Franzetti in cui parla del modo in cui la sinistra anche il PC e anche ex comunisti hanno ragionato su questo problema ovviamente non è che tipo parlare della verità storica o di questi problemi dovrebbe per forza essere un appanaggio dell'estremo destra e non lo è non lo è mai stato infatti possiamo pensare anche ai libri ai studi pubblicati anche dell'istituto storico della resistenza del Venezia Giulia tipo il libro sull'esodo nell'80 ad esempio in cui si affronta questi problemi storici però nella lettura di Franzinetti c'è un elemento secondo me molto importante è che gli ex comunisti quali appunto Giorgio Napolitano che hanno cercato di superare il problema del loro proprio passato comunista e il problema che il PC ha anche avuto anche tipo verso i fine anni 40 tipo quello di mettere insieme un patriotismo italiano antifascismo e questa vicenda questi eccidi e quindi ha trovato un modo facile di risolvere il sciogliere il nodo risolvere il problema accettando completamente il discorso anche gli elementi di linguaggio della destra ovviamente una parte importante di questa visione vittimaria della storia italiana della prima repubblica è quella di insistere sul fatto che la storia del sangue dei vinti sia una storia sempre rimossa ripressa sconosciuta che finalmente riemerge però se pensiamo che sono già tipo 40 50 anni che ci sono studi storici su questi su questi episodi però ancora comunque fa parte di una della dell'uso politico della storia dalla destra se pensiamo che ogni anno per il giorno del ricordo mi sa che è successo ogni anno per gli ultimi cinque anni Matteo Salvini ha detto che bisogna onorare anche le vittime delle foebe perché non ci sono vittime serie A e serie B tra Auschwitz e la foeba di Bersovitz se posso aggiungere scusami se te sì perché appunto una cosa che viene molto bene messa in luce è l'olocaustizzazione delle foebe quello che si può definire un processo di appunto di olocaustizzazione delle foebe chiaramente questo nasce negli anni 2000 quando il discorso memoriale sull'olocausto sulla Shoah non solo in Italia ma in Europa diventa assolutamente centrale prevalente diventa uno dei pilastri un po' della della memorialistica e della memoria europea e quello che viene appunto fatto è di mettere non solo sullo stesso piano i due fenomeni ma di farlo utilizzando il dato etnico cioè come gli ebrei sono stati eliminati dal nazismo in quanto ebrei nelle foebe sono caduti italiani in quanto italiani che non è un discorso molto diverso da quello che la stessa Meloni ha fatto l'altro giorno su Via Rasella in quanto italiani e lidendo chiaramente con grande facilità tutta una serie di articolazioni di problemi storici di fatti anche storici naturalmente però appunto e lo stesso Matteo Salvini come hai detto tutto giustamente hai ricordato cerca di equiparare Auschwitz a Basovizza insomma e fa veramente un processo di parallelismo di sovrapposizione a critica tra i due contesti tra i due fenomeni senza alcuna articolazione più profonda ecco scusami no 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 hai ragione è tipo c'è questo elemento tipo anche come ha detto Alessandro che c'è questa questa insistenza su riconoscere le vittime di tutte e due parti no sia ebrei che italiani però è anche parziale anche nel senso che rimuove completamente ogni tipo di riflessione discorso su l'invasione della Jugoslavia della Grecia dell'Abania di Etiopia di Libia eccetera eccetera quindi mi sa che una cosa un po' impressionante se parliamo di questi interventi sul bisogno di pacificare la storia è che chiede molto poco dell'estremo destra no? Sì sul problema della concezione etnica e organistica della nazione sì infatti penso che la citazione di Gentile nelle tesi di Triestre viene da un suo scritto sullo stato etico e compare anche nel dizionario del fascismo la cosa un po' è una cosa interessante di questa citazione di Gentile è che Gentile dice che la vita comune l'esistenza storica di un popolo crea le condizioni materiali per la formazione di una nazione però non è un processo spontaneo automatico bisogna la volontà organizzata politica per realizzare la nazione e ovviamente nella tesi di Gentile stessa di Gentile è lo stato ad organizzare questi elementi questi materiali per forgiare la nazione invece nelle tesi di Trieste e di Fratelli d'Italia la parola stato non c'è quindi c'è una c'è la mobilitazione politica ma non lo stato etico in generale mi sa che è un po' tipico del discorso di Fratelli d'Italia di dire che ma tutto il problema del fascismo l'abbiamo già risolto abbiamo sciolto questo problema a fiugi però in tanti altri sensi Fratelli d'Italia soprattutto nei primi anni del partito dopo la sua fondazione nel 2012 ha rifiudiato più o meno esplicitamente il passato finiano no tipo c'è una quando tipo c'è una polemica che racconto nel libro che nel 2015 un deputato di Fratelli d'Italia ha abbandonato il partito Corsaro dicendo che Meloni fosse tipo facesse la staffetta di Salvini no e durante tipo la fase dell'ascesa dell'espansione della Lega diventando partito nazionale anche il momento dell'alleanza tra la Lega e Casa Pound sovranità si chiamava e Fini ha fatto un intervento dicendo che Meloni fosse diventando una mascotte di Salvini e Meloni ha risposto dicendo che Fini stesso fosse il mascotte della grande finanza di poteri forti e della massoneria quindi il partito ha utilizzato anche questo linguaggio ovviamente molto identitario anche complottista per condannare il ruolo di Fini che ha distrutto il partito che ha distrutto la destra quindi i fratelli d'Italia oggi ha una posizione molto contraddittoria nei confronti della suolta di Fugi però come dico nel libro anche un po' rappresenta un ricambio generazionale ovviamente sono presente che anche l'idea stessa di una generazione è un po' poco precisa però nel senso che se Fini si sentiva obbligato in qualche modo a accettare il codice e il linguaggio della Repubblica al momento di diventare di fare dell'allianza nazionale in partito di governo per Meloni tutto questo è già fatto non ce n'è più bisogno quindi può evitare di fare altrettanto quindi però più propriamente sull'idea sulla concezione della nazione c'è un intervento molto un testo molto interessante di Roger Griffin che nel 95 è pubblicato un articolo sull'alleanza nazionale parlando del del suo ibridizzazione di una cultura politica su base tipo con una concezione fascista e etnica della nazione ma che opera dentro un quadro libero costituzionale e libero democratico e questo mi sembra che ovviamente il partito fratelli d'italia oggi non è l'alleanza nazionale però mi sembra che questo tipo di approccio è molto utile per capire questa combinazione articolazione tra continuità e evoluzione l'ultima domanda sulle effetti della crisi economica qualche giorno fa sono andato ad una c'era una ci sono questi dibattiti organizzati dal fatto quotidiano tipo la scuola politica destra e sinistra c'era hanno intervenuto Massimo Cacciari e Marco Tarchi ovviamente Tarchi non solo un ex missino però un studioso politologo che nel suo intervento in qualche senso ha avuto ragione ha detto che il problema tipo anche l'ha fatto devo dire in un modo un po' vittimario però ha detto tipo la sinistra il problema della sinistra in Italia è che non vuole accettare le ragioni altrui e quando parla della destra non riconosce che ci sono più destre che c'è la destra liberale quella libertaria quella rivoluzionaria come l'ha detto Zeev Sternhell ma anche la destra sociale e mi chiedo in che senso esiste oggi una destra sociale o in Fratelli d'Italia mi sa di no questo c'è un discorso del welfare chauvinismo ma c'è tanto chauvinismo molto poco welfare no? e mi sa che tipo soprattutto Meloni tipo se pensiamo ad esempio non fa più parte del partito ma se pensiamo a qualcuno come Gianni Alemanno che ha incarnato questo corrente dell'MSI e in Allianza Nazionale però fatico un po' a pensare cosa ha fatto di specifico quale sindaco di Roma a realizzare questo pensiero e Meloni stessa è un ma come hai detto accennato a questo è che tipo l'Alleanza Nazionale nei governi di Berlusconi non mi sa che abbia promosso una politica alternativa su problemi economici già nel congresso di Verona dell'Alleanza Nazionale nel 98 hanno un po' accettato anche tesi molto riflettendo un po' lo spirito dei tempi della felice globalizzazione forse si bisogna qualche argine per proteggere gli ultimi anche adesso ogni tanto si dice che noi di Fratelli d'Italia siamo la destra sociale che è sempre stata più vicina alle operai e tutto questo però a livello di conseguenze politiche mi sa che c'è molto poco però va anche detto che in un certo senso si è un partito che sa parlare di problemi quali creazione di lavoro di contrastare gli effetti della crisi lo fa in un suo modo cioè ad esempio quello della rivoluzione fiscale che fa sì che gli imprenditori riescono ad assumere di più però è una visione Reaganiana della politica economica Meloni ha anche citato tante volte l'ispirazione Reaganiana forse in un contesto in cui tipo dopo il venire meno del movimento operaio in cui soluzioni tipo più welferiste o collettivistiche sembrano più difficili è anche possibile che questo tipo di risposte economiche hanno un seguito più largo però quando parliamo della base elettorale di Fratelli d'Italia sarò sarei penso che è troppo facile immaginare che sia un po' la la culminazione di tutta la storia prima è che tipo esprime il discontento sociale eccetera però se vediamo l'elettorato di Fratelli d'Italia c'è una fetta venuta dal Movimento 5 Stelle però c'era sempre un elemento diciamo più di destra anche del Movimento 5 Stelle tipo chi votava 5 Stelle prima e adesso per Fratelli d'Italia non è qualcuno convinto dalla politica più sociale di Conte e gli altri perlopiù vengono da altri partiti di destra hai menzionato che nel libro alla fine ho citato i risultati elettorali del neofascismo postfascismo per me la cosa tipo un po' come all'inizio ho citato il film lui è tornato è troppo facile immaginare che ci sia questa ondata populista che cambia tutto e c'è questa volatilità però alla fine l'Alleanza Nazionale già nel 96 aveva più di 6 milioni di voti e Fratelli d'Italia adesso 7 milioni 200 mila quindi c'è una polarizzazione dentro il cosiddetto centro-destra però sì tipo senza altro la crisi ha anche alimentato la volatilità generale del sistema politico italiano ovviamente anche la pandemia e il governo Draghi hanno fatto sì che Fratelli d'Italia potesse posizionarsi quale la unica posizione alternativa mettendo insieme aspetti più tipo antisistema ma anche conservatore però non lo so mi sa che è tutto da 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 non è non è per niente deciso che questo partito rimarrà la forza più importante di di destra vediamo se ci sono delle domande sì allora ne riprendiamo un po' e poi vediamo ci sono altre domande uno c'è qualcun altro e se potete avvicinare e anche sì per il microfono facciamo più domande poi gli ordini facciamo una sequenza di domande poi risponde poi se può avvicinarsi al microfono della microfono allora è tutto vero le dichiarazioni sono sconcertanti soprattutto per il presidente del senato che è quasi si va allo spergiuro la costituzione deve essere rispettata comunque io voglio solo fare un riferimento ai primi anni di dopoguerra noi avevamo presidente della corte costituzionale Gaetano Azzarisi lo sapete chi era Gaetano Azzarisi è stato presidente del tribunale della della razza condannato a morte decine e decine di persone il connubio De Gasperi e Togliatti oltre all'amministratore dove ha fatto passare molti assassini e criminali attaciuto su tanti altri processi che sarebbero dovuti esserci sui detrattori quanti detrattori sono stati a Firenze avevamo il famoso manganiello ecco allora io mi chiedo non dobbiamo meravigliarci di tutto quello che succede delle dichiarazioni quando abbiamo avuto come attori principali una delle cariche più importanti della nostra Repubblica la Repubblica Gaetano Azzarisi quindi i processi non sono mai stati fatti i silenzi della Santa Sede sono stati enormi enormi in un periodo storico doveva poi ci furono alcuni cardinali i due per quelli che conosco io quello di Genova quello di Firenze che qualcosa fecero ma alla fine ci sono grosse complicità queste complicità non sono mai stati chiariti e la coscienza di coloro che hanno governato non c'è mai stata c'è stata solo politica interessi da una parte e dall'altra vi ringrazio allora io volevo fare una breve considerazione e una domanda la considerazione su questa tendenza che c'è da sempre di trasformare il lupo in agnello dell'approccio vittimario cioè mi ricordo dei discorsi dei fascisti non mi ricordo se nel gennaio del 25 proprio nel discorso del 3 gennaio oppure in risposta all'unico discorso che Gramsci pronunciò in Parlamento dicevano che le vittime ce le avevano loro facevano riferimento all'episodio di Bertha che era questo ragazzo fascista ucciso dalle masse insomma però hanno avuto molti meno morti naturalmente e però dicono che loro sono stati le vittime come se non basterebbe contare il numero dei morti o anche vedere se è stato mai prima colpito un fascista di un antifascista per capire quanto questa cosa e poi quello appunto delle foibe scandalose come se i tedeschi sappiamo tutti che circa un milione di tedeschi furono non credo in maniera molto gentile fatti andare via dalla zona dei sudeti dopo la dopo la seconda guerra mondiale ecco ma nessuna non credo che la Germania rivendichi questo come un giorno del ricordo per i poveri tedeschi cacciati via dai sudeti ecco mi sembra cioè veramente leggere tutto quello che hanno fatto non soltanto tra il 43 e il 45 anzi tra il 41 e il 45 ma prima negli anni del ventennio fascista come sono stati trattati gli jugoslavi ucciso un giovane perché aveva fatto in chiesa un canto in qualche modo inneggiante alla balcanicità della sua zona dell'Istria e quindi questa cosa del trasformare loro che sono lupi in agnelli in vittime è una cosa che c'è sempre stata nel fascismo e che e che continua anche ora e invece la domanda che volevo fare è se nel libro appare perché appunto come diceva la dottoressa Pavan del discorso delle tante anime del dell'MSI ecco tra queste anime c'era appunto quella di Pino Rauti che mi risulta avere avuto rapporti molto stretti con signori del tipo delle chiaie colonnelli greci insomma neofascismo stragista ecco c'è nel libro qualche riferimento al rapporto tra chi è adesso in Fratelli d'Italia e questa parte perché il Fratelli d'Italia dice noi il fascismo è superato invece non è superato l'MSI però l'MSI dichiarava con Almirante uno dei primi comizi che io mi ricordo che avevo dieci anni c'era Almirante che diceva il vero fascismo è qui quindi non posso dire io sono fascista però posso dire il vero fascismo è qui quindi per la proprietà transitiva se tutti richiami ad Almirante e Almirante dice il vero fascismo è qui ecco la proprietà transitiva viene da grazie ci sono altri interventi richieste di prima di dare se può dire anche il nome potete dire il nome Sì Giacomo Gabuti della Sant'Anna ringrazio i relatori da questo punto di vista a me colpiva un episodio diciamo non so se che non è stato evocato oggi anche proprio l'elezione il discorso con cui Giorgia Meloni celebra l'elezione è estremamente passatista non è un richiamo come i camerati caduti ma ci manca poco cioè evoca il fatto di generazioni che hanno per cui questo momento non quindi è proprio mi colpiva perché poche settimane fa è uscito un libro di Giorgio Caravale per la terza che riflette su come la storia sia uscita dal dibattito pubblico c'è un declino della figura dello storio come intellettuale perché i partiti non riflettono più sulla loro storia Fratelli d'Italia è un'eccezione macroscopica cioè è un partito è l'unico partito che la sua storia in modo selettivo ma ne fa appunto un dato costituente tanto che nell'annunciarsi come primo partito e guida del governo non parla al paese ma parla ai suoi che non ci sono più che è anche qualcosa diciamo come dire al limite dell'esoterico ma da questo punto di vista diciamo la domanda è anche usando sfruttando il tuo sguardo più esterno quanto questo sia comune cioè quando noi poi si mette diciamo Fratelli d'Italia nel calderone delle destre populiste quanto questo elemento che ha anche una sua radice in quello che diceva Ilaria Pavanna cioè nell'eccezionalità dell'MSI come primo partito ricostituito con diretti legami con un passato dittatoriale quanto questo sia unico o no e quanto questo venga poi sottolineato diciamo dal racconto che si fa da fuori dell'Italia per cui magari si fatica a cogliere la distinzione poi tra un Salvini che magari è più tipicamente e ha poca memoria della sua storia tanto da rimuovere nord dal simbolo del partito mentre loro come ci ricorda la tua copertina la storia del loro partito ce l'hanno ben presente quindi ti volevo chiedere di quanto questa presenza storica che abbiamo enfatizzato qui sia tipica della destra italiana nel panorama europeo internazionale grazie mille ancora a tutti i relatori la mia domanda toccava appunto ancora il tema diciamo dell'economia e anche in questo scenario nuovo che tu dipingi il mio dubbio è che le politiche sociali di Fratelli d'Italia siano le politiche dell'immigrazione e non siano un sostituto inefficace anzi funzioni non hanno bisogno capito potrebbe essere questo l'aspetto tu dici dove sono quali sono gli aspetti sociali come come si cura diciamo la polarizzazione della società la disuguaglianza eccetera la risposta in termini politici sono le politiche sull'immigrazione e possono bastare quelli ad assicurare consenso anche per periodi lunghi ci sono altre domande ne approfitto per farne due io in realtà collegate a quello che veniva detto prima sul rapporto storia politica e sulla dimensione europea per il rapporto storia politica io non ce l'ho andato a rivedere però ricordo che uno degli elementi forti del discorso sulla storia e sull'ideologia di alleanza nazionale era la destra e la destra italiana viene da lontano una tradizione antica che attraversa il fascismo ma va oltre il fascismo e quindi in sostanzialmente il fascismo è una parte che si può mettere tra parentesi perché appunto Rocco c'era prima del fascismo non abbiamo bisogno del fascismo per essere di destra paradossalmente mi sembra invece che il la fascismo di fratelli d'Italia non riesca ad avere questo sguardo cioè che arriva massimo fino al fascismo e lì si ferma arrovellandosi su se stesso ma senza recuperare una tradizione che poi in particolare in Italia diciamo da De Bonalda De Mestri in poi non ha nulla da invidiare ecco da questo punto da questo punto di vista l'altra questione sulla dimensione europea o la Sonderwege italiana che sicuramente c'è però mi chiedo quanto in parte lo dici anche sia nel libro sia in altre occasioni la destra di fratelli d'Italia richiama quello che sembra essere il profilo delle altre destre europee in questo momento anzi addirittura se pensiamo le politiche dell'immigrazione sicuramente però se pensiamo alle proposte del governo britannico i nostri governati fanno la figura dei moderati nessuno vuole deportare in Uganda le cose quello che mi chiede in realtà di solito questo discorso viene utilizzato per dire vedete la destra italiana è effettivamente una destra europea moderna che ha superato il nesso col fascismo mi chiedo se in realtà non sia possibile invece rovesciare il discorso cioè in fondo l'antifascismo anche italiano degli anni 30 ci ha insegnato che il fascismo è stato un problema è un fenomeno europeo e che non siamo solo noi noi non abbiamo fatto i conti con la parola F ma forse non siamo gli unici a non averne fatto i conti e che ci sono forse dei filoni carsici nelle destre europee che si rifanno appunto al conservatorio prima citavi Sternell e così via che quindi diciamo se non fascismi quanto meno dei conservatorismi fortemente organicisti e fortemente nazionalisti non sono un'esclusiva italiana e che quindi magari in maniera più o meno inconscia questi discorsi sono l'acqua dentro cui sta crescendo anche a livello europeo questa destra che è post fascista che è sovranista nazionalista che nazionalista su come nella società italiana si parla del passato e del fascismo quindi c'è un po' di tutto però spero in modo più o meno coerente quindi la prima domanda su sì è infatti sul presidente del corte costituzionale sull'amnistia eccetera senz'altro e questo si ricollega anche a un aspetto a cui non avevo risposto di una domanda di Ilaria che questo discorso di pacificazione è sempre ha sempre esistito e in tanti fasi non ha mai chiesto molto non è mai stato non è stato condizionato è è vero che l'Italia è il solo paese in cui dopo la guerra c'è stato un partito fascista che ha avuto la possibilità di candidarsi alle elezioni ad organizzare apertamente a difendere una cultura politica apertamente fascista ovviamente c'è un po' una distinzione tra gli ex fascisti uomini di Mussolini e del regime che si sono riciclati dopo anche in altri partiti anche nella macchina statale dello Stato e assai spesso anche soprattutto la russa evoca questa storia dicendo ah ma tanti fascisti si sono riciclati quali comunisti dopo la guerra e siamo solo noi ad essere discriminati perché siamo rimasti coerenti alle idee rimanendo fascisti anche quando si si pensa della pacificazione alla fine degli anni di piombo ad esempio quando per la prima volta Bettino Craxi ha invitato l'ammigrante di partecipare alle consulte prima di creare un governo ovviamente senza la prospettiva di fare alleanze questo tentativo di fare di introdurre l'MSI nel gioco parlamentare politico legittimo non ha chiesto quale condizione un abbandono delle sue idee o delle sue identità fascista qualcuno ha menzionato questo discorso dell'armigrante dell'82 è importante anche citato nel libro ho dimenticato di ringraziare Radio Radicale per essere qui e durante la pandemia ho avuto l'occasione di ascoltare tanti questi tipo interventi nell'archivio di Radio Radicale e uno è il congresso dell'MSI dell'82 Panella è venuto a dare un saluto dal suo partito del partito radicale e prima di venire ha detto a più riprese ai media che il vero fascismo non si trovasse nell'MSI ma nel sistema nella democrazia cristiana eccetera e l'armigrante ha insistito no il fascismo è qui e non si trova fuori di qui non qui però sì il fascismo non si trova fuori del partito è che il fascismo fosse una tradizione sociale una sintesi di valori di storia di esperienze sì una cultura politica e secondo me ha ragione o ha avuto ragione il fascismo non è solo sopprusi e dittatura e violenza è anche tutto questo senz'altro però ha anche la capacità di seguire un processo di evoluzione di integrare altri elementi vedi Alessandro ha detto prima che alla fine tipo l'MSI non ha saputo andare a di là di una cultura politica fascista ha tentato più volte a cercare allianze se pensiamo ad esempio a esperienze quali il borghese o il tentativo di fare la destra nazionale però alla fine le contraddizioni interne dell'MSI sono quelle del fascismo storico anche del regime anche di Salò quindi un po' la tesi di Amorante è stata quella di rinnovare il fascismo anche fini al momento di non solo al momento di diventare il segretario del partito per la prima volta ma anche nel 93 anche nella fase di creare alleanza nazionale parlava in questi termini ha anche evocato il bisogno di non renegare non ristorare e mi sa che anche Fratelli d'Italia fa così utilizza un anche esponenti della destra e non solo di Fratelli d'Italia utilizzano queste strategie comunicative per un po' evitare il problema o di attaccare l'antifascismo da più prospettive però sì mi sembra un problema non risolto non 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 si trovano chiesti di superare la cultura politica neofascista forse ricordate che un paio di anni fa Ernesto come si chiama Gale sì ha chiesto tipo ha proposto un un FUGI 2.0 però non c'è bisogno non devono rispondere a nessuno no ok questa la seconda domanda su sì su Rauti sì tipo nel libro tipo insisto sul fatto che non 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 è che la prima repubblica ha cercato di criminalizzare l'MSI invece l'MSI è stato molto poroso a militanti del neofascismo stragista in molti contesti ha anche creato un tipo di copertura istituzionale democratica e quindi è solo naturale che venne indagate queste responsabilità anche criminali oggi c'è molto il discorso secondo qui ma noi siamo giovani e a Bologna nell'ottanta non c'eravamo però sì è ovvio che ciò che stanno cercando di fare è di rendere la storia dell'MSI e del neofascismo in generale quasi tipo innocente e quasi neutra però c'è un articolo molto interessante di Elia Rosati sul caso specifico di Sergio Ramelli in cui parla di questo del duplice ruolo di di Ramelli nella memoria neo e post fascista nel senso che in un certo senso è una pura vittima tipo vittima di una stagione di violenza politica degli estremismi opposti tutto questo e tipo c'è anche tipo Beppe Salla che va a fare l'omaggio alla casa di Ramelli ogni anno perché alla fine era un giovane senza responsabilità politica senza un passato violento eccetera la pura vittima ma allo stesso tempo dice Rosati c'è un tipo di ricamera ricamera camerata izzazione appunto di sì per questo motivo non ringrazio troppo Radio Radicale perché il mio accento è più o meno terribile però sì c'è questa tipo ci sono i militanti che fanno il saluto romano e rivendicano il diritto di fare il saluto romano quale gesto commemorativo che grino presente che fanno di Ramelli anche parte di una storia anche della lo mettono nella tradizione degli uomini di Salò giustiziati la stessa data il 29 aprile ma del 45 quindi c'è un po' questo mito di le eterni vittime della storia fascista quindi ha questi due aspetti sulla politica sociale e immigrazione tipo la risposta alla tua domanda Alessandra è ciò che ha detto Francesco Loro Brigida un paio di giorni fa quando ha detto che chi riceve il reddito di cittadinanza dovrebbe lavorare nei campi e non pensare che saranno importati immigrati schiavi per fare questo lavoro quindi nella politica di Fratelli d'Italia c'è la critica agli immigrati che vengono qui per rubare il lavoro però c'è anche la critica ai poveri italiani che siccome non lavorano fanno sì che devono venire gli immigrati quindi c'è una politica sociale senza altro però non è non si indirizza alle fasce più povere o in difficoltà della società italiana tipo c'è anche la politica sociale che aiuta agli evasori piccola imprenditoria eccetera però sì possono anche tipo il voto di Fratelli d'Italia è più o meno transclassista tipo prima aveva un tipo c'erano più autonomi eccetera però sì mi sa che anche prende un tipo approfita del declino generale di partecipazione elettorale e che non deve per forza conquistare tutte queste fasce diverse della vecchia classe operaia eccetera su qual'era l'altra domanda sì quella di Pietro sì ho messo almeno due delle domande in una singola risposta ok quindi tipo mi sa che la tipo il vero punto di paragone in Europa sono i partiti di destra nell'est europeo e che infatti esplicitamente e coscientemente il partito post fascista vuole fare della memoria collettiva della memoria pubblica in italiana l'equivalente di paesi quali Ungheria e Polonia in cui il 45 non è una liberazione ma che il loro paese sia stato la vittima dei due totalitarismi nazista e comunista è il modo di 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 parlare delle vittime delle forze rettine e anche delle foibe a promuovere questa narrazione però ciò che dici sul congresso di fiugi queste idee della destra prima durante anche dopo gli anni venti si è che ha volutamente un rapporto molto ambiguo con il fascismo perché lo integra in un campo una serie di tendenze una serie di tendenze ideali più articolate però senza specificare in che modo è stato ripudiato o meno il fascismo stesso però è anche detto che all'epoca tipo nelle tesi di fiugi c'è un po' questa questo tentativo di dire che alla destra è anche tipo Ernest Renan o Demestre o altri leader altri esponenti della destra francese o non fascista a livello internazionale e poi aggiunge ma anche un po' Gramsci e Gobetti senza specificare in qual modo adesso vediamo che senza altro Meloni cerca di trovare punti di riferimento fuori della tradizione neofascista probabilmente il singolo esempio più importante è quello di Paolo Pasolini molto spesso evocato dai leader di Fratelli d'Italia però c'è anche un po' questa capacità di superare una tradizione italiana fascista importando anche altre idee di estrema destra dalla destra internazionale tipo se pensiamo all'esempio di Renaud Camus che ha cognato l'idea della sostituzione etnica quindi non è solo una tradizione tipo spengleriana o jungheriana dell'idea del tramonto dell'occidente tipo la civiltà che diventa anziana e decadente però è il disegno il complotto e anche il partito conservatore in Inghilterra ha adottato queste idee tipo il cultural Marxism tipo gli universitari e le elite che vogliono distruggere la nostra identità e così via e per questo motivo che dico che si tratta di una si tratti di una ricomposizione delle destre in un momento in cui è palese tipo il declino relativo dell'occidente in cui questa identità cristiana europea eccetera si trova minacciata ovviamente io trovo un po' ridicolo tipo nei media italiane quando ad esempio viene detto che alla fine Giorgia Meloni fa parte del mainstream perché viene invitata a partecipare a CPAC il conservative political action conference negli Stati Uniti dove c'è anche tipo Marjorie Taylor Green la senatrice che dice che ci sia un connubio pedofili pedofili satanisti quindi è un po' che è un po' anche la tesi del libro e del mio famoso articolo è che è il venire meno delle barriere o della separazione tra la destra radicata nell'esperienza di fascismo e collaborazione durante la seconda guerra mondiale è quello più conservatore anglofono eccetera e lo vediamo anche in altri paesi tipo in Francia dove il partito di Le Pen non ha bisogno di parlare tanto della seconda guerra mondiale della guerra in Algeria sì però è ovvio che ogni tipo di cordone sanitaire nei loro confronti viene meno quindi sì non si tratta solo di un problema italiano del post fascismo nel libro senza altro ho evidenziato questa tradizione storica questa tradizione ideale l'organizzazione interrotta della destra post fascista però ci sono tanti motivi per paragonare questa esperienza o questo partito moderno con degli altri tipo qualche mese fa ero in Brasile per presentare il mio ultimo libro sulla Lega sulle destre sovraniste eccetera e lì si ha un po' il problema che quando si parla delle cose italiane della realtà italiana ci sono ovviamente punti di contatto ci sono alleanze tra la destra qui e i vari Bolsonaro eccetera però lì il livello di violenza sociale anche di violenza politica è molto ovviamente molto più alta quindi in un certo senso l'esempio italiano della convergenza delle destre negli primi anni 90 è stato ha anticipato un processo che vediamo anche in altri paesi però l'effetto qui ovviamente può essere considerato molto negativo per la qualità della democrazia italiana però non ha avuto le stesse ricadute violente o non tante che vediamo in altri paesi senza dimenticare ovviamente anche gli attentati anche i pestaggi anche chi è stato ucciso da fascisti in questo paese anche in anni recenti grazie per la sua risposta grazie soprattutto a tutti sia qui che a casa per aver resistito un'ora 56 minuti e 36 secondi in questo momento quindi grazie ancora e buone buone feste direi a tutti e soprattutto è tutto grazie grazie